ben ritrovati oggi facciamo un pranzetto semplice veloce ma è buona assai oggi facciamo i spaghetti con la crema di noce per prima cosa mettiamo l'acqua nella pentola e mettiamo a bollire l'acqua patella abbondante giro d'olio extravergine spicchio d'aglio 40 grammi di pancetta tocchette 10 noci da ridurre a granella prezzemolo tritato raga facciamo rosolare il tutto finché non diventa tutto bello croccante ecco qua che bei colori che darà un sapore che non vi dico facciamo sempre soffriggere rosolare e non bruciare ecco qua fatto cuocere 5 minuti perché sennò la noce diventa amara è già la vita amara almeno nel mangiare vogliamo la dolcizza prelevo l'aglio perché se va in bocca a qualcuno dopo non potete baciare nessuno perché il ciato diventa scostumato cominciate a preparare la noce in crema io l'ho comprata non l'ho fatto io se volete nel canale trovate la ricetta dove faccio io la crema di noci spaghetto vi consiglio questo qua trafilato a bronzo così s'azzecca meglio il mangiare vicino bolle spaghetti non dimenticate mai di prendere un bel mestolo di acqua di cottura e mettiamo da parte verso la crema di noce gli faccio una spruzzata di prezzemolo fresco a sentimento gli metto pecorino romano acqua di cottura e faccio saltare in padella ecco qua ora che questa bella creme tutta attaccata agli spaghetti ecco qua non ci resta che servire ecco il piatto finito un vero spettacolo sono buonissimi quei preparateli e fatevi sapere se vi sono piaciuti io vi aspetto alla prossima ricetta vi lascio un bacio alla prossima